Abbiamo discusso dell'Europa matrigna, delle dichiarazioni della Meloni sulla pacchia è finita e poi veramente si comporta in maniera più suddita di Draghi. Ah, nella mano destra la Giddina Draghi, nella mano sinistra il tacquino di Biden. Non riesce minimamente a imporre politiche sovraniste dopo che è stata votata anche da tanti cittadini perché la vedevano come colei capace di imporsi in Europa, addirittura Washington e di dare finalmente all'Italia, alla politica italiana, un'autonomia decisionale. Cioè, io credo fermamente che il problema principale in questo paese non sia oggi il fascismo, hai fatto un discorso molto ragionevole, sia l'assenza della politica, da un lato la finanza, dall'altra parte la Nato, da un'altra parte... Oh, in ogni caso il distacco, aggiungo io per Giulio e poi ora cerchiamo... La Meloni non fa politica, io vedo che è immobile.